Vietato pareggiare, solo vincere. Questo è il monito del vicepresidente Carmelo Callari dopo la pesante sconfitta nella finale di Coppa Italia Eccellenza. L'Acragas si prepara alla trasferta di Caltanissetta con la consapevolezza di non potersi permettere più alcun margine di errore dopo la prestazione contro la nuova Igea Virtus, che ha lasciato il tifo biancazzurro in preda alla preoccupazione in vista della prosecuzione della stagione. Intanto giovedì pomeriggio, proprio per comprendere la genesi della deludente prestazione di Ragusa e cercare di ricompattare l'ambiente, alla ripresa degli allenamenti c'è stato un faccia a faccia fra la società e la squadra in cui è stata ribadita la convinzione di archiviare la debacle di Coppa e pensare al campionato in cui la città dei templi è la prima della classe. L'Acragas, società, settore tecnico e calciatori non sono abituati a perdere male come abbiamo perso ieri. È stata una partita negativa, non abbiamo visto nessun risvolto positivo, nessuna reazione da parte della squadra. Ho parlato personalmente al nome della società con i calciatori, i quali non si spiegano cosa sia successo. È un episodio completamente isolato. Siamo abbastanza carichi tutti quanti nell'affermare che la data di ieri non esiste. Andiamo avanti sempre più carichi nel campionato che vogliamo veramente portarla a termine nel migliore modo possibile. In questo senso si avvicina il big match fra Anissa e Acragas, previsto domenica prossima alle 15.30 al Marco Tomaselli, valido per la diciottesima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Un derby storicamente molto sentito dalle due città, con la capolista intenta a dimenticare il nefasto pomeriggio di Ragusa e la formazione nissena alla ricerca di un sorriso dopo la sconfitta di misura patita a Marineo. Grazie.